... Procedi in direzione est verso SP12. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Scala dei Turchi! Che mare! Spettacolo! 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 Sì Dove sei? Mmm, non sembra. Ho secco. Ho il bagno. Siamo secco. Granita al mandarino e brioche. Sicilia! Granita al mandarino con brioche. Piscina, sole e Sicilia. Se hai bisogno di un po' di sale, te lo gratti. Salsa cocktail di gambero rosso di Mazzara del Valle. No, doni Mazzara del Valle. Sera facili con brioche. Mmm, la foto dei brioche. Mazzara del Gasara. ho fatto amora assaggio amore cosa sa? polpa polpa eh ci sto guardando assaggia è una saldina, dobbiamo spezzarla che vuoi disaspettando? ma che dico non lo disaspettavo io so che davo te e dai lui è tutto in bocca il mio pesce ha la viglia e il suo tono royale ma ti piace la mia? il mio mamma è la sua cassata polmoglio è il mio per le si dissi è il mio per lei è il mio per lei questo non cosa